Tanta paura, ma anche la tristezza e l'incredulità per un atto intimidatorio che ha scosso giovani e famiglie, coloro cioè che in questi ultimi quattro anni sono stati coinvolti dall'attivismo di Don Rosario Petrone, giovane parroco della chiesa di Brignano, quartiere di Salerno a pochi metri da Via Irno. Ieri sera erano in tante all'interno della vecchia scuola materna che da tempo ospita diverse associazioni di volontariato e tra queste anche il centro per la legalità e quello d'accoglienza per gli extracomunitari. Dall'esterno, mentre i più piccoli provavano uno spettacolo teatrale, i gnoti hanno lanciato una bomba carta. L'esplosione è stata forte, avvertita anche nelle abitazioni vicine. Danni alla struttura e qualche vetro è andato in frantumi. Tre feriti, due ragazzi che hanno riportato lesioni ai timpani ed una donna colta da malore. Sul posto sono intervenuti gli agenti della scientifica per i rilevi del caso. Le forze dell'ordine hanno ascoltato le testimonianze del parroco dei presenti di alcuni abitanti del quartiere per capire i motivi di questo atto intimidatorio ed identificare gli autori. Sicuramente paura per i più piccoli, per i giovani e i ragazzi. Un po' di sgomento sicuramente, ma anche un po' arrabbiati per questo atto che sicuramente non è stata una cosa positiva. Anzi, è stata un'offesa soprattutto all'intelligenza di tanti giovani che si impegnano sul territorio per vivere soprattutto i festeggiamenti in onore del santo padrono. Dalla riflessione che facciamo sicuramente chi ha fatto questa cosa è una persona ignorante, una persona che non sa vivere le relazioni, una persona che evidentemente ha qualche problema anche grave. Chi può volere male a questo quartiere o alle associazioni che operano all'interno di questo quartiere? Guarda, non ho idea perché la popolazione di Brignano risponde bene a tutte le iniziative che la parrocchia e le altre associazioni propone. Sicuramente noi abbiamo incassato lo schiaffo, ma noi non voglio dire e lo restituiremo perché per quello che rappresento non mi è con... cioè, assolutamente. Però noi sabato vivremo con gioia, metteremo in scena tutto quello che stavamo preparando e magari, ecco, questa sarà la nostra risposta a questa offesa.